Ben ritrovati a tutti all'interno delle nostre trading room, in questo video oggi andiamo a parlare di Amazon, Amazon colosso dell'e-commerce americano, proprio la scorsa settimana ha avuto gli earnings, i dati trimestrali sull'andamento della società e appunto volevo parlarne un pochettino con voi, analizzarlo per capire se appunto può essere interessante da inserire all'interno del nostro portafoglio. Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella che trovate qua di fianco, ora invece la nostra sigla. Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma, quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. E rieccoci, intanto vi annuncio una bellissima novità, stiamo procedendo a livello aziendale a un cambio di brand, di fatti vedete che appunto il nostro canale si è modificato, si è abbellito a livello di layout ma soprattutto ha cambiato il suo nome. Abbiamo passato il contatto, il canale assistenza brokers ad Alfa for All Italia. Quindi a breve avrete poi anche maggiore informazioni anche per quanto riguarda il nostro cambio sito e tutto ciò che vi può interessare per poter continuare a starci vicino. Ora, al di là di questa piccola informazione di servizio, iniziamo un po' a parlare di Amazon. Lo facciamo partendo intanto da quello che è un suo grafico perché ci tengo ovviamente un po' a farvi vedere quelli che sono state le performance del titolo, soprattutto in occasione e a partire dal primo lockdown. Chiaramente il colosso del e-commerce ne ha beneficiato davvero tantissimo perché con l'impossibilità da parte delle persone di muoversi dalle proprie abitazioni si è iniziato ad acquistare sempre di più online e chiaramente Amazon ne ha beneficiato tantissimo. Difatti vedete che proprio dalla metà del marzo del 2020 il titolo è cresciuto di circa un 125% andando a toccare un tetto massimo a livello di quotazione di 3.750 dollari. Quindi un titolo che non è a portata diciamo di mano di tutti perché appunto tendenzialmente costa parecchio rispetto a altri titoli che possiamo trovare all'interno del comparto e del mercato americano. Quindi una bellissima crescita ma che cosa è successo sugli earnings e perché post notizie il titolo ha perso circa un 9%. Andiamo a vedere un po' i vari dati finanziari e lo facciamo sempre appoggiandoci al Trade Explorer della TVS di Interactive Brokers. In particolare andiamo a vedere i dati finanziari su base trimestrale perché i dati comunque sono stati molto interessanti in crescita rispetto ai trimestri precedenti. Qua lo andiamo a analizzare tramite le revenue qua parliamo di 113 miliardi di dollari di fatturato di entrate lorde in questo caso e come vedete rispetto ai trimestri precedenti guardate vedete 88, 96, 108, 113. C'è stata sicuramente una crescita e la si può vedere anche da questo piccolo grafico con istogrammi. Una crescita però che non combacia a livello di dati rispetto alle aspettative degli analisti e soprattutto quale potrebbe essere un'ottica futura di quello che potrebbe essere l'andamento della società. Con pian piano l'allentarsi del lockdown abbiamo già visto, abbiamo già assistito ad un ritorno diciamo più classico degli acquisti. Difatti le persone si iniziano a rispostare, ad acquistare all'interno dei negozi e quindi a muoversi fisicamente. Quindi man mano che passerà un po' il tempo ci potrebbe magari essere una diminuzione degli acquisti tramite e-commerce. Questa è un po' una prospettiva, è un'idea che hanno tra virgolette gli analisti o comunque chi va ad analizzare in primis la società. Io posso essere da un lato d'accordo ma anche da una parte in disaccordo. Questo perché? Perché sì magari molti torneranno ad acquistare nei negozi, assolutamente sì, però in tanti altri magari si sono trovati bene con Amazon e continuano a utilizzare Amazon. Quindi dobbiamo vedere un po' tutti e due pensieri che dobbiamo analizzare in questo caso. Io diciamo che appunto mi trovo un po' in mezzo a questi due. Però un'altra cosa che ci può aiutare e secondo me che fa valutare comunque molto bene in questo caso Amazon, che chiaramente con il crescere delle revenue anche gli earnings per share, cioè gli utili per azione, sono cresciuti. Qua lo possiamo vedere tramite il sito TipRanks che tendenzialmente vado ad utilizzare per vedere il calendario un po' più dettagliato di earnings, dividendi e eventuali IPO. Difatti come potete vedere rispetto alla stima, in questo caso gli utili per azione riportati di 15 e 13 dollari hanno sovrastimato le aspettative degli analisti di 12 e 23 dollari. Quindi anche dal punto di vista EPS siamo cresciuti, le revenue abbiamo visto, quindi le entrate abbiamo visto che sono cresciute, ma non hanno rispettato appunto queste stime degli analisti. Andiamo in questo momento a capire se Amazon con la discesa che ha avuto, che magari la guardiamo rapidamente su base anche annua, che possiamo vedere, scusate che abbiamo preso un anno, eccolo qua il giornaliero candele, sposto la mia figura qua sotto ed eccoci qua. Vedete che da quelli che sono stati i massimi in occasione degli earnings la discesa è stata di circa un 9% come vi anticipavo poco prima, ma ripeto anche da quelli che sono invece i massimi che abbiamo toccato si parla di circa un 11%. Andiamo a vedere se con questa discesa risulta il titolo, un titolo magari ancora potenzialmente sottovalutato, un titolo che ha questi prezzi, quindi in area, vedete adesso siamo come prezzi precisi battuti a 3.375, può essere una buona occasione di acquisto. Per fare quest'analisi la andiamo a valutare prima con gli indicatori chiave, partendo dal PE che a livello di price earnings riusciamo a capire un attimino rispetto ai concorrenti aziendali se il titolo può essere considerabile sottovalutato. Allora, se andiamo a vedere un po' i vari concorrenti, anche le medie dei 5 anni, attualmente Amazon ha un PE di 53,99 che è un PE a livello medio tendenzialmente piuttosto alto rispetto un po' al classici PE per aziende sottovalutate, se non che dobbiamo contestualizzarlo comunque a un settore lato più tecnologico, quindi tendenzialmente i PE di solito sono un po' più elevati o comunque hanno un range di valutazione diverso rispetto ai titoli più classici. Allora, dal mio punto di vista, vedendo questo PE rispetto a una miglia di 5 anni sicuramente siamo in calo e questo è un buon dato dal mio punto di vista. Con JD io non lo andrei neanche proprio a paragonare, ma potrei magari andarlo a paragonare un attimino con due titoli che a livello di e-commerce sicuramente stanno lavorando molto bene. JD non lo tratto perché comunque si parla di un'azienda cinese comunque contabilizzata, in questo caso in dollari, quindi all'interno del mercato americano. Quindi sia V che ETSY hanno entrambi due PE molto più elevati rispetto ad Amazon, il che essendo comunque sotto una media storica di 5 anni ed essendo anche sotto a quelli che sono i PE delle due aziende secondo me in questa comparazione concorrente appunto del settore, secondo me Amazon in questo momento a livello di prezzo può essere considerabile sottovalutato. Quindi un prezzo sicuramente interessante per poter fare un intervento che poi andiamo a verificare anche a livello tecnico se c'è un momento buono per l'entrata. Quindi a livello di PE dal mio punto di vista ci siamo. Andiamo a dare un attimo un'occhiata anche al ROA e al ROE e vediamo se viene confermata un po' questa crescita. Allora se andiamo a vedere il ROE, eccolo qua, retorno non equiti, il ROE è in crescita, dal 2019 sta crescendo, quindi va a confermare una buona opportunità di investimento per Amazon e viene confermata anche dal ROA, anche lui in crescita, leggera ma in crescita. Quindi dal punto di vista fondamentale io vado a classificare il titolo, secondo me è comunque un titolo molto interessante. A livello di indebitamento è sicuramente coperto perché sta realizzando e incrementando gli utili. Abbiamo visto che è sottovalutato. A livello di coefficiente beta qua, lo andiamo a rivedere all'interno della home page, è un beta di 1,14 leggermente più volatile rispetto al benchmark di riferimento. L'unica pecca, vogliamo chiamarla pecca, è il non pagamento del dividendo, però poco male, visto comunque le fortissime performance che ha sempre realizzato Amazon, quindi non consideriamola una pecca. Per concludere un po' la cosa, vorrei guardare un attimo i dati finanziari anche su base annua, per vedere le varie crescite. Vedete le crescite lorde, guardate che forte crescita c'è stata rispetto alla chiusura del 2019, quindi qua paragoniamo a 31 dicembre 2020 con 31 dicembre 2019, quindi il revenue in crescita, ma come sono state in crescita le net income, quindi le entrate nette. Quindi dal punto di vista fondamentale direi assolutamente un titolo solido, forte e addirittura secondo pie sottovalutato. Vediamolo ancora un attimo dal grafico e capiamo se può esserci una possibilità di entrata. Qua siamo su un anno, allora su un anno siamo a ridosso della banda bassa delle bande di Bollinger, quindi tendenzialmente può esserci già un rimbalzo, quasi in corrispondenza con la media 200 periodi, quindi un ottimo secondo me appunto qua per vedere appunto un rimbalzo del titolo. Ritorniamo un attimo sui cinque anni per vedere dei livelli un po' più importanti, perché uno dei livelli più importanti è proprio 3000. 3000 potrebbe magari farci un giro ancora, cioè ristornare un attimino qua per poi avere un rimbalzo. Molti addirittura vedono il titolo ritornare a livelli pre-pandemia, quindi intorno ad area 2155, addirittura 2000. Secondo me no, questa è un po' chiaramente poi la mia personale opinione, ma il che vada, se dovesse ristornare, dovesse scendere ancora, piuttosto lo vedo qua, che è la zona a livello tecnico come area di supporto più importante ed è appunto anche un'area tonda tonda e sapete bene che come dico sempre gli americani amano i numeri tondi. Quindi dal punto di vista di lungo periodo i dati qua sono ancora positivi anche a livello di MACD, c'è un potenziale incrocio di carattere ribassista, però non ancora confermato dagli istogrammi sempre appunto del MACD, appunto prima area di un eventuale supporto a 3000, anche se io sul breve, sono sincero, lo vedo comunque piuttosto bene, perché già sembra tenere un po' questi livelli di prezzo. Quindi per chiudere un po' il discorso, cioè perché abbiamo fatto questo video? Per capire appunto se secondo me Amazon può essere un'azienda buona, bensì che all'interno del portafoglio. Ora, secondo me sì, nel senso che possiamo comunque pensare ad intervenire chiaramente acquistando magari solo un'azione, visto il prezzo piuttosto oneroso del titolo. Se eventualmente storna e dovesse ritornare in area 3000, chi sicuramente ha dei conti un po' più ampi può pensare anche a un inserimento di un secondo titolo, di una seconda azione, perché entrare adesso abbiamo comunque sul breve dei dati non molto positivi dal punto di vista di timing, però a questi prezzi con uno storno di un 9%, secondo me Amazon può essere un buon affare. Ecco, questo è un po' quello che penso sul titolo, fatemi sapere anche quello che ne pensate voi su Amazon utilizzando i commentini che trovate qua sotto sul nostro canale YouTube e ovviamente vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie!